Marco Barilli, 53 anni, quadro direttivo presso la cassa di risparmio di Pistoia della Lucchesia, vive a Sant'Antonio con la moglie. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che ognuno di noi debba mettersi in prima linea per migliorare il suo quartiere, la sua città e la sua vita senza delegare ad altri questo compito. Sogna con De Pasquale Sindaco di riportare Carrara a essere un esempio da seguire, dove cultura e benessere diffuso possano diventare una realtà e non siano condannate a rimanere soltanto un'utopia.